Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. E l'attimo di cui il sole è diventato un raggio. Ciao! Puoi scendere un attimo? Devo lasciarti un invito molto importante. Sì, un attimo, ora scendo, va bene. Ciao! Piacere, Yolanda! Posso lasciarti questo invito? Va bene. Ricordati che con questo invito puoi cambiare la tua vita. Sì, io a Barcellona. Sì, dovevo chiedere se posso venire, però sperando che i nostri genitori siano d'accordo. Sì, sperando. Sì, no? Sì, no? Sì, no? Sì, no? No, andiamo come al solito. Prima andiamo come al solito. No, vabbè. Ciao, ragazzi! Ciao! Quando ragazzi ho ricevuto una lettera da una che si spacciava per Yolanda, non lo so, ragazzi. Questo è un'unione di voi. Vedete, ne pensate? Il tempo, adesso. Adesso è tempo. Ma che è? No, lascio a perdere. Vì. Che ne pensi? Boh, che devo imparire a voi. Secondo me saranno le solite pallose pubblicità. Dici? Sì. Qualetta? Ah, beh. Sì. E se ti sapessi la data in tre, vorrei guardare? Chi stai? Vai, proviamoci, non lo so? Sì, proviamo. Però vedi, leggendo è meglio. Non perdere il tempo. Proviamo. Vabbè, dai, proviamo. Non perdere il tempo. Ragazzi, dai. Giusto. Andiamo. Perché il tempo è adesso! Sì, scopi. Come l'aria prima che il tempo Ci porti via Ci porti via Da qui Ti